Ci occupiamo in questo video della qualità dell'evidenza e dei tipi di studio. Ci sono diversi tipi di studio che possono portare a evidenze di maggiore o minor valore. In questa figura, detta la piramide dell'evidenza, vediamo i principali tipi di studio e quello che può essere il loro valore dal punto di vista dell'evidenza. Alla base della piramide, gli studi considerati di minor valore, al vertice della piramide, quelli che danno evidenze di maggior valore. Alla base della piramide troviamo gli studi senza uno specifico disegno. Si tratta delle opinioni di esperti, editoriali, lettere, studi di singolo caso, oppure revisioni narrative, cioè revisioni della letteratura condotte senza un preciso metodo statistico. Gli studi si possono poi dividere in primari e secondari. Gli studi primari conducono ricerca originale, conducendo singoli sperimentazioni. Gli studi secondari, revisioni e linee guida, riassumono i risultati di diversi studi primari sullo stesso argomento. Gli studi si possono anche dividere in osservazionali e sperimentali. Gli studi osservazionali si basano sull'osservazione di quanto succede, senza che il ricercatore intervenga. Gli studi sperimentali descrivono invece risultati di esperimenti condotti dal ricercatore. Chiaramente, gli studi osservazionali sono meno costosi e più semplici da organizzare. Infatti, il ricercatore non agisce, ma si limita ad osservare quello che i pazienti già farebbero, anche se non partecipassero allo studio. Gli studi sperimentali sono più costosi, più complessi da organizzare, e possono anche porre dei problemi etici, soprattutto quando si tratta di somministrare farmaci sperimentali o trattamenti ancora non del tutto provati. Dal punto di vista temporale, gli studi possono essere divisi in retrospettivi, cross-sezionali e prospettivi. Gli studi retrospettivi sono quelli nei quali il ricercatore va all'indietro nel tempo per studiare come una certa situazione si è evoluta. Gli studi cross-sezionali sono quelli che esaminano la situazione in un preciso momento nel tempo. Gli studi prospettivi sono quelli in cui il ricercatore, già all'inizio dello studio, prevede il protrarsi dello studio su un certo periodo di tempo che andrà poi ad osservare e documentare. In questo specchietto vediamo la divisione degli studi dal punto di vista temporale.